90% Gnosis attraverso Corrado Piancastelli, Entità A Come esseri stanchi voi in genere vi abbandonate alle leggi umane e naturali della Terra, senza un esercizio critico. Io credo che il 90%, se non più, degli abitanti del pianeta trascorre la propria vita senza riflettere bene e senza guardarsi dentro. Vive cioè soltanto seguendo, quando lo segue, il patrimonio culturale della storia e gli orientamenti della società in cui vive, preconfezionati, assunti in maniera acritica come pura e dannosa sovrastruttura. Tutto questo rende più difficile la stessa esperienza spirituale, perché ormai lo dovreste sapere, un'esperienza è veramente tale, se è vissuta con intelligenza e profondità. Perché essa si incida dentro, deve passare attraverso il lavoro personale, e il lavoro come amore è sempre una sofferenza. Perché richiede uno sforzo, ma quando questo sforzo è compreso, quando il lavoro della vita è capito fino in fondo, anche la sofferenza viene meno, e può diventare invece una manifestazione di gioia. La vita non è la cosa triste che tutti dicono.